Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto e Firenze e Peritola, rallentamenti tra Prato Ovest e Il Biglio per la 1. Sulla FIPILI per lavori, un chilometro di coda in direzione mare tra Ginestra e Montelupo e in direzione Firenze tra Empoli Est e Montelupo. Chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta. Sulla Statale 64 Porrettana, all'altezza della Galleria del Signorino, restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!